Gigi ragazzi e bentornati nel canalone di The Game Show, ancora StumbleGuys, un'altra bellissima puntata, però mi raccomando prima di cominciare un bel like, iscrivetevi al canale e continuate ad utilizzare il codice creatore TheGame76 per shoppare su ROGATRIG e FORTUNITE, la cosa bella che oggi con me abbiamo un ospite, il nostro Leo, ciao Leo, buongiorno a tutti, oh bello, allora ho voluto registrare questa puntata con te per sentirmi un po' in compagnia, con una persona del mio team, sei d'accordo? Beh sì, dai, bella, bella, non sono mai presente nei tuoi video, ma è una volta che appaio anch'io, bravissimo Leo, allora per fare questa partita insieme, devo fare la partita privata, giusto? C'è gruppo, ti do il codice, crea, sì, sì, crea e dopo mi dici il codice, ok, allora è 53861, ok, un po' come facciamo nelle live, ragazzi, mi raccomando, non mancate nelle live del vostro The Game, giocherete anche voi insieme al nostro amico Leo, Allora siamo pronti, per forza, se sono io e te Leo, per questa puntata, appunto, vabbè, gioca, intanto posso indossare la mascherina del Trajardone per fare un Ball Guys, posso fare Stam Ball Guys, scusami, la mascherina, eccola qua, del Trajardone, ormai mi conoscete tutti su Stam Ball Guy con sta mascherina, per cui, vabbè, siamo pronti, Dobbiamo, certo Leo, dobbiamo, io non devo fare una figura di merda, come sempre, io sono pure da PC per variare un po', bravo, per cui tu Trajarderai, già tu sei forte, vabbè, ragazzi, secondo me il vostro The Game uscirà subito, perché non è abilissimo questo gioco, invece Leo potrebbe addirittura vincerla, indiperqui, se il vostro The Game si leva dalle balle, seguiremo tutti Leo, Allora, benissimo, questo stage, vabbè, faccio andare avanti gli altri, giusto? Sì Ok, andiamo avanti, bene, andate, 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 asini, andate, asini, ok, qua posso decollare un po', bene, bene, dove si va? Oh, non mi buttate giù, schifosi, oh, ma che dai, ma minchia, ma che cavolo Guarda, sì, vabbè Ma neanche io, perché mi hanno tirato un calcio Eh, anche a me mi hanno buttato fuori sti cani, vabbè, ragazzi, qua c'è una competizione pazzesca Vi svegliamo la verità, no, vi svegliamo la verità, non abbiamo voluto fare subito chissà cosa, perché se no la puntata durerebbe Eh, non, giusto? Cosa, mezza partita? Eh, non va bene così Devo inventare cazzate, però, no, per scusarmi, per fare finta di nulla, allora, crea, creazione, gru, perché? Non so, è uscito da solo Appunto, è uscito da solo, sì, ecco, 96137, le ho Ok, dai Benissimo Ho fatto qualcosa Sì No, 96137 Ah, ok È il 9 che ero sbagliato Ok Benissimo, gioca Sì, vabbè, abbiamo sempre bisogno di scaldarci un attimino, Leo, è normale È la prima, no? Non abbiamo neanche provato off-camera, almeno io non ho manco provato off-camera Eh, appunto Eh, ragazzi, bisogna scaldare le mani Fare stretching, non è che arriva uno Start a stumble guy se vince Se no sarebbe easy Eh, se fosse così gli altri È anche inutile che, insomma, si mettono a giocare Allora, vediamo cosa succede in questa partita mia e di Leo Molto abile dovrei essere qua 3-2-1 Let's go Bella, Leo, siamo primi e secondi Vai, Leo, ti seguo A ruota Bella, Leo A ruota ti seguo Let's go Aspetta, sono passato, Leo Sono passato Eh, fatto un trick assurdo Leo, trick assurdo però adesso Eccomi in culo qua Va bene Aspetti un po' Eh, sì Appunto Ok, io ti fai Sì, sono passato Andiamo avanti Andiamo avanti Calma, salto Hopla Hop Uno, due, tre Leo primo No, primo the game Ho fatto passare the game, Leo Mamma mia, la coppia del video Prima e secondo, Leo Soddisfacente Questo sì, molto Sto round è Meglio di prima Prima Sembravano tutti molto Troppo Aggressivi Beh, infatti Poi eravamo freddi Invece ragazzi Qua abbiamo fatto una prestazione Mica male, eh Mica male Su 32 Siamo arrivati i primi secondi Eh, cagaspita Guarda, questo qua Viene preso con la mazza da baseball Ma cos'è che fa? Torna indietro? Ah Ma sì, perché la mazzata che ha preso L'ha rincoglionito, Leo Capito? Eh, sì Ah, sì È vero Ah, gli ha girato il cervello Guarda No, no Stavolta invece Gli hanno rigirato No, no, no Invece fa la cazzata Seguiamolo È molto Come posso dire? Non mi viene il termine giusto Vabbè, ragazzi Saltiamola Non mi viene il termine giusto Un termine easy Però Cosa, Leo? Lasciamo Lasciamo Scorrere il tutto Che è meglio Sì, sì, sì Lasciamo scorrere il tutto Che è meglio Va bene Allora Anche qua Non dovrei andare male Caro Leo Qui ci sono dei trick assurdi Ma non ci provo neanche Perché sono cose fuori Dal Sì Combinare Sulla Ti può saltare sopra Sto coso Qui che tu vedi Poi balzare sopra Quest'altro Questo cosino Davanti a me Poi balzare Fin da sopra In alto Vabbè Let's go Let's go Però siamo ancora messi bene Però adesso sì Andiamo 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 Adesso Adesso Salta Qui Poi salta E scatto Adesso Ti butti giù Così No io vado normale Perché io poi finisco giù Ecco Ho fatto la cazzata Oh la la Primo e secondo Ragazzi Leo che mi dà Sempre Il via libera Per rispetto Giustamente Se no sarebbe arrivato Due volte prima lui Però Calcoliamo che Leo Sia arrivato due volte primo Sempre primo e secondo Mamma mia Una bella puntata questa Direi Leo Beh Direi di sì Un inizio proprio A parte la partita di prima Ma per essere Seconda partita Già Molto Eh siamo Stiamo andando bene Bella raga Bella raga Allora Finalissima Leo Qua se devi vincere Vinci tu eh Mi raccomando Basta che vinciamo uno Uno dei due Del canale Qua bisogna vincere Se si riesce Dopo di questa Ci salutiamo E vi ricordo Ragazzi Ok Che abbiamo le live Vi aspettiamo Le live Is time guys Sul canale Di The Gaming Show Let's go Bravo game Eh io Non c'è Non vedo Non vedo Ho già sbagliato Vai 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 The game Vai the game Sai che forse vinci tu Perché sono indietro Non lo so Non lo so Non è facile Però forse faccio i trick Provo a fare i trick Eh appunto Fai i trick Fai qualcosa Stiamo avanti Anche qua Bravo game Bravo game Bravo game Devo puntare su di te Perché sta andando malissimo Eh ma Non è Ecco mi sono incartato Però vabbè Sono ancora qui Sono ancora qui Ci sono Leo Ci sono Leo Ci sono leo Ci sono raga Seee The Game The Game firma e vince un'altra corona ragazzi il canale di The Game Show spacca Leo secondo te ho avuto culo? no 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 beh dai un po' si è stato velocissimo mi è andata bene ragazzi non poteva finire meglio di così questa puntata di StumbleGuys intanto ringrazio Leo che è stato ospite di The Game ciao Leo ciao a tutti ricordatevi di seguire The Game e mettere like bravissimo Leo tutti così ragazzi Leo ha detto così perché Leo è un vero uomo uno che non manca mai nelle live di The Game Show per divertirci insieme sia su Rocket League StumbleGuys e tantissimi altri giochi allora ricapitolando facendo mezzo passo indietro cosa vi devo ricordare come sempre perché voi siete dei testoni un bel like per questo video e per la vittoria della squadra del canale di The Game Show una bella iscrizione non fatela mancare mai ragazzi venite a far parte anche voi di questo bellissimo canale continuate ad utilizzare il codice creatore The Game 76 per andare a mangiare la pizza ma Leo si va a mangiare la pizza con il codice creatore? nooo si vanno a comprare le mele al mercato? vero Leo? nooo non mi sembra giusto? nooo allora ecco utilizzate ecco giustamente utilizzatelo per shoppare su Fortnite e Rocket League ragazzi e noi insieme a Leo ci vediamo sempre sul canale di The Game Show e anche al prossimo video di StumbleGuys dove? l'abbiamo detto prima sempre qui sul canale di The Game Show ciao